Vai, andiamo, andiamo, aspettiamo la risposta perfetta Grandioso, grandioso, rimettiamo tutto a posto Siamo risaliti dopo la discoteca ambulante La discoteca era bellissima, era meglio Di questa cosa orrenda Io ho capito che tu sei diventato molto ma molto più buono Allora prima con la discoteca ambulante avevi sulla testa il fumo che ti pensava Non hai proprio detto ah, niente No, ma poverino stava morendo, che gli devo dire Era proprio a un passo dal defibrillatore che ci dovrebbe mettere anche dentro quell'invenzione E con questa poi invece Con questa invece Amici delle spettature, ma che è questa cosa? Ma vuoi gli occhiali? Ma sembri nato zero in un momento anche difficile della sua vita Non credo, non credo Ma per piacere 3.400 euro per voi, amici delle spettature Siccome è per voi, wow Allora io faccio, non fate caso purtroppo a questa immagine Allora io faccio, non fate